alla San Nicola di Bari si affrontano Bari e Crotone Di Capezzi che mette in movimento Ricci sulla corsia di destra Ricci le finite parte le cross in aria sul secondo palo Martella a rete ha segnato il Crotone ha segnato Martella il ragazzo di Atri della provincia di Teramo cresciuto nella Pescara sblocca il risultato dopo appena tre minuti Martella porta in vantaggio il Crotone 22 partite, 3 gol in stagione per il terzino sinistro tutto solo sul secondo palo Don corre fuori posizione è da circa 4 metri dalla linea bianca di porta Martella scaricato 1 sinistro sotto alla traversa nulla da fare per il portiere Guarn Gensoglo, l'apertura immediata per Maniero parte la conclusione, il pareggio il pareggio del Bari ma è tutto vano perché si alza alla bandina del primo assistente del signor Tolpo a comandare un calcio di punizione per il Crotone posizione irregolare di Maniero posizione di offside era terminato oltre l'ultimo difensore anche quello di Rosina che si butta dentro vertice dell'area di rigore ancora Rosina parte il cross con il destro la palla che crezza la traversa era un tiro cross Cordaz completamente sorpreso ma è ancora il Bari con Evaliani palla in mezzo ci arriva Rosina ma c'è il miracolo di Cordaz con Evaliani che manda in verticale De Luca palla sul secondo palo per Maniero ancora il tiro e Cordaz che ci mette il ginocchio la gamba a sinistra per deviare il tiro a botta sicura da parte di Maniero quindi Capezzi mette in movimento Balazza sulla corsia di destra parte il cross del rumeno sul secondo palo non esce Guarna Stojan provato a stare di testa ancora Martella alle sue spalle Martella a linea di fondo parte il cross Budimir di testa palla alta sopra la traversa ma che partita 15 minuti per Federico Ricci c'è il movimento da parte di Capezzi palla dentro per Balazza Budimir la rete del cotone anche in questo caso si ascia la bandierina del signor Oliveri a comandare un calcio di punizione in favore delle Bari per posizione irregolare 5 secondi Alex Cordaz va al rilancio lungo il signor Pasqua ha le fischiette in bocca in questo momento manda le squadre negli sfogliatoi al termine della prima frazione di gioco il crotone è in vantaggio lo stesso Nicola di Bari per la rete a 0 stacca la profondità Rosina lo accompagna Valiani limite dell'area di rigore Valiani vale il tiro Cordaz e poi Maniero in rete il pareggio dal Bari all'ottavo della ripresa ci pensa lui Riccardo Maniero a mettere il pallone in fondo la rete a trovare il gol del pareggio per il Bari 19 il numero 19 Riccardo Maniero all'ottavo gola stagionale che controlla il pallone con il petto De Luca è in ritardo zampano De Luca in area di rigore De Luca palla sul piede sinistro attenzione intervento di Balassa e c'è il calcio di rigore per il Bari attenzione parte De Luca e le tira la rete il Bari è in vantaggio al ventunesimo calcio di rigore guadagnato e trasformato De Luca il pallone l'apertura si tra per Martella che carica il sinistro palo clamoroso da parte di Martella un missile quello del numero 24 mismatch con Sissoko parte il cross per Budimir e poi il miracolo di Guarna ma non è finita Torromino parte il cross c'è una deviazione c'è il tiro da bandierina anzi era Martella a rimettere in gioco il pallone nel cuore della rigore è rimasto contuso a terra il portiere Guarna forse i giocatori del Bari stanno partendo tempo intanto attenzione a Guarna errore Guarna falcia il centravanti ante Budimir errore di Isaac Donkor e di Guarna è cartellino rosso per l'estremo difensore breve 5-6 metri andrà con il destro parte Torromino il tiro alla rete si tuffa a destra Riccardo Maniero ma non può mai arrivare sulle palloni Torromino soluzione chirurgica quella di Torromino molto simile a quella di De Luca riprendere il gioco Palladino si posiziona sul primo palo parte il cross in area attenzione la palla che danza all'interno dei 16 metri Budimir Budimir il vantaggio del Crotone il vantaggio del Crotone al 47esimo esplode di gioia la panchina degli squali l'abbraccio di Kordaz in mezzo al campo aveva fatto un miracolo Riccardo Maniero rispingendo il primo tentativo di ante Budimir ma il bomber implacabile non sbaglia la seconda volta e mette il pallone alle spalle dell'incolpevole Riccardo Maniero che sta